We are GoFluent. Comprendiamo la necessità di utilizzare l'inglese in un contesto lavorativo sempre più connesso e multinazionale. Ecco perché i corsi d'inglese GoFluent garantiscono risparmio economico e ritorno dell'investimento. Come facciamo? Ovunque tu sia nel mercato globale, ti offriamo corsi integrati d'inglese che migliorano l'efficacia del tuo business. Le nostre soluzioni formative sono adottate con successo da numerose aziende nel mercato globale e adatte a vari settori. Energy, Manufacturing, Healthcare, Automotive e molti altri. Quali sono i fattori chiave per una formazione efficace? Dei percorsi formativi personalizzati in grado di soddisfare ogni esigenza. General English, Industry Specific, Business Specific. Sul nostro portale e-learning trovi oltre 5.000 contenuti didattici aggiornati regolarmente, articoli, video e altri contenuti personalizzati. Lavorerai su risorse attinenti alle tue necessità e a quelle della tua azienda, sviluppando le competenze linguistiche relative al tuo lavoro. GoFluent conosce l'importanza dei risultati. Ecco perché dal tuo portale manager puoi monitorare i progressi dei tuoi colleghi con report personalizzati e strumenti per la valutazione dell'efficacia. I nostri coach supportano, motivano e guidano lo studente dal giorno di inizio del corso sino al raggiungimento degli obiettivi formativi, stabiliti in accordo con l'account manager GoFluent. Come facciamo tutto questo? Secondo i nostri clienti, grazie a un servizio eccellente. GoFluent, your partner in achieving success in a highly competitive global market. Secondo i nostri clienti, grazie a tutti.